Castelli, città della ceramica artigianale abruzzese. E' la proposta di legge presentata dal consigliere regionale Dino Pepe in condivisione con la comunità di Castelli. E' grazie all'impegno del sindaco Rinaldo Seca che ha scritto alla presidenza del consiglio regionale chiedendo un sostegno per valorizzare la storia e la tradizione della ceramica e del proprio liceo artistico. Vogliamo attraverso questo progetto di legge il riconoscimento ufficiale della città di Castelli come città della ceramica abruzzese. In più chiediamo anche un riconoscimento, una valorizzazione ma soprattutto un sostegno finanziario per quanto riguarda la mostra mercato con un contributo regionale di 60.000 euro e una collaborazione diffusa con gli operatori del territorio a cominciare anche dal liceo Gruve attraverso borse di studio specifiche attraverso la partecipazione di Castelli e dei suoi operatori alle fiere alle quali partecipa Regione Abruzza a livello nazionale ed internazionale. vuole essere uno strumento di valorizzazione del territorio e quindi di Castelli in maniera particolare. Si tratta di un progetto di rete che vuole promuovere uno dei comuni più importanti a livello regionale e nazionale nella produzione dell'arte ceramica e si vogliono potenziare i percorsi formativi del liceo artistico Gruve punto di riferimento indiscutibile per tutti i futuri ceramisti. Castelli, come tante volte le vostre telecamere ho consegnato, vive negli anni molto complessi dovuti ai terremoti, alle nevicate, alla crisi del settore quindi ha bisogno di rilanciarsi. Sicuramente questo può essere un passo fondamentale per il riconoscimento ma soprattutto per iniziare a convogliare, incanalare risorse per il rilancio. Per esempio nella legge è prevista una dotazione finanziaria importante per la mostra mercato che in questi giorni si sta svolgendo a Castelli 59esima edizione quest'anno, l'anno prossimo taglieremo il 60esimo nestro quindi speriamo che con le risorse che arriveranno da questa legge potremo organizzare una mostra degna dell'appuntamento perché 60 anni di fiera la collocano tra le più importanti della regione ma della nazione.